Speri ha accolto con entusiasmo le sfide che sono cominciate dal 2017, 2018, 2019, le sfide che sono state poste alla nostra società. Siamo stati interlocutori privilegiati di Enel nella riqualificazione e valutazione della sicurezza delle grandi dighe, di oltre 30 grandi dighe italiane. Siamo stati convolti, dato state per l'Italia, nella riqualificazione o nella valutazione della sicurezza del patrimonio esistente dei ponti e viadotti e su queste sfide in aggiunta abbiamo affrontato con entusiasmo l'ingresso del mercato alberghiero internazionale a Roma. Siamo stati attori della prima trasformazione del W, un edificio per uffici in albergo, un primo brand internazionale che ha portato il primo 5 Stelle lusso ad affiancarsi alla tradizionale hotelleria romana. Su questo modo, su questo lancio, Speri ha scelto di investire, anche grazie ai tre figli del fondatore, di cui io sono uno dei tre figli, in un'età tra i 40 e i 50 anni, con 20 anni di esperienza e con una decina d'anni di esperienza all'estero, riportare in Italia, facendo crescere una buona realtà professionale di una 30-50 anni di persone, sino ad oggi che siamo arrivati a 350, traguardiamo i 450 per fine anno con un fatturato di 40 milioni di euro. Queste sono state le scelte, il coraggio e di voler vivere queste sfide e affrontarle con entusiasmo sulla base di una competenza forte e pregressa ed un'esperienza internazionale alla base.